e siamo qui a tarifa nell'area sosta camper preparato per gaia messo raffreddato metà in metà e mi sono fatto io uno spezzatino con le patate oggi è stata una brutta giornata ha piovuto fino a poco tempo fa speriamo che è migliore ci andiamo a fare una bella passeggiata ma sono le due e mezza ma si mangiamo e vabbè buon appetito gaia buon appetito pure a me buon appetito pure a voi e sto andando a ritirare un pacchetto di amazon l'ultimo regalo che mi faccio che mi sono fatto che vi farò vedere l'ultimo perché da ora in poi devo fare veramente molta attenzione a come spendo i soldi quindi l'ultimo regalo del per il momento poi ci saranno altri ma per il momento è l'ultimo regalo e andiamo a trovare gli amici gli amici di colore e calore e poi ieri ha fatto la malatrice e poi scelto una bella giornata per fare la malatrice ma tutto bene e poi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se vuoi sapere cosa c'è qui dentro e ora lo apriamo insieme. Tu riposa. Andiamo dove lo metto per la vita. Mi servono due mani. Eccolo qua. 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 Subito si monta. Va benissimo. Perfetto. Che c'è tu là? Chi è? Un signore con un carrello. Dà fastidio il signore con il carrello? Siamo arrivati sulla spiaggia di Tarifa. Dormiamo qua. Dormiamo qua stanotte. Così domani ci svegliamo e andiamo direttamente sulla spiaggia. Che tramonto che sta facendo. Allora. Che fuga. Un'altra volta te ne vado. Ogni volta. Ah. Bello. 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 Già stai stanca? La stai stanca. Hi. Hi. Si. 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 Siamo sulla spiaggia Arifo. I giochi. Sì. ciao Dino è immensa è immensa ok io continuo dai e vabbè dai è arrivato il momento di andarci a preparare una cosa buona è arrivato il momento Ti vedo molto interessato, ma non è per te, io penso che è fatto, yes, ma facciamo raffreddare se è buona, buona, già me l'ha pregusto, mentre si raffredda, io mi metto a asciugare un po' i piatti, e già ho fatto i piatti così mi sono tolto il pensiero, e c'è bellella, bellella, quando andiamo sulla schiaccia, poi fai le lacrime di sabbia, le lacrime di sabbia, aspetta, e che dire, che dire, che dire, lo proviamo, vediamo com'è, secondo me è buono, e buon appetito. E con ca, sa tena. E con ca, sa tena. E con ca, sa tena.